partiti sono partiti ma non ha preso via galattica che è rimasta dietro le gabbie quindi galattica non sarà della partita tutti gli altri sono partiti e dal centro del gruppo si presenta subito bene spring eternal allo steccato c'è dragon force ancora più al centro della pista cavallo con la lista bianca in faccia è compton lane poi una seconda linea formata da novelle butte da harvey ballock poi flash door super beatrix ancora bless you poi common black ben coperto dietro i primi così come fit for fun ma qui insomma due cavalli che hanno preso bel margine e sono compton lane all'esterno di spring eternal tutti gli altri che cercano la rincorsa a partire da dragon force poi ancora harvey ballock flash door e common black che adesso sposta al centro della pista mentre all'interno c'è fit for fun all'interno spring eternal all'esterno invece compton lane con in terza posizione ancora dragon force e fit for fun che cerca di filtrare percorsia in trenne siamo a 150 dal palo all'interno però spring eternal si libera dalla morsa di compton lane e deve parare l'affondo di dragon force quindi spring eternal contro dragon force nella fase finale dragon force lo mangia per il terzo fit for fun andiamo a rivedere una corsa che ha vissuto di buonissimi parziali iniziali con spring eternal che alla fine ha cercato di resistere ma nulla ha potuto contro l'affondo di dragon force ancora samuele di anassegno con il training di simone langiano i colori sono quelli della colle papa quindi dragon force chiude a 8 e 90 fit for fun è terzo 5 grazie a tutti i i i e calz lì la i i i